In attesa di capire quale potrebbe essere il futuro di Alvaro Morata se all'Atletico Madrid, alla Roma, all'Inter, alla Juve o in qualsiasi altra squadra torniamo a parlare di Gianluca Scamacca perché stando agli ultimi aggiornamenti principalmente usciti fuori dalla Gazzetta dello Sport sembra che il West Ham stia aprendo un piccolo spiraio al prestito per l'attaccante alla Roma l'opzione che i giallorossi hanno portato avanti praticamente fin dal principio e che all'inizio era stata rifiutata dal West Ham in quanto l'anno scorso l'avevano pagato 42 milioni 36 più 6 di bonus giustamente volevano guadagnarci qualcosina sembra quindi che si sta trovando una soluzione intermedia prima di entrare però ulteriormente nei dettagli vi chiedo come sempre di lasciare un mi piace per supportarmi soprattutto per questo lavoro che sto facendo nel portarvi contenuti anche se novità concrete effettivamente ancora non ce ne sono ovviamente sto scherzando un'iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto e se volete seguirmi su tutti gli altri miei profili social vi lascio il link come sempre qua sotto in descrizione mi raccomando se vi va fatelo perché per me è molto importante non tanto dal punto di vista economico ma soprattutto per farmi capire che ha apprezzato i miei contenuti e per stimolarmi diciamo portarne sempre di più detto questo allora entrando appunto nel merito di questa situazione la Roma era partita all'inizio chiedendo un prestito secco al West Ham opzione che era difficile e se fosse stata accolta dagli inglesi Scamacca sarebbe andato alla Roma praticamente fin da subito sappiamo bene la volontà del giocatore qual è lo ha anche specificato in un'intervista recente proprio alla Gazzetta dello Sport che è la squadra del suo cuore Roma è casa sua e sarebbe contento di essere allenato da Murigno e lo considera un allenatore che lo potrebbe far crescere ancora di più quindi penso che proprio più palese di così ci mancava che iniziasse l'intervista dicendo Tiago Pinto comprami fammi venire qua non ne posso più tra l'altro giusto per avere delle conferme riguardo a questa idea lo stesso Scamacca ha segnato qualche giorno fa in amichevole contro il Tottenham e per quanto chiaramente la mancata esultanza può derivare dal fatto che era una partita che non contava nulla secondo me può anche significare appunto la sua volontà di andare a vestire la maia della Roma e diciamo un po' il suo fastidio nel vedere che il West Ham non lo lascia andare almeno questa è la mia ipotesi poi bisogna vedere se è vero o no io dal punto di vista del West Ham non mi sento di criticarli in nessun modo ecco arrivano i camion adesso mentre sto parlando grazie grazie molto gentili mi raccomando alle 3 e un quarto dove andranno questi non lo so comunque a parte tutto non posso neanche chiudere la finestra perché sennò muoio visto le temperature che ci sono comunque dicevo capisco il West Ham e la sua volontà di ricavarci qualcosa perché per quanto si tratta di club che fanno girare i milioni in maniera molto più importante rispetto all'Italia ad esempio non sono stupidi nel senso che sì io posso magari spendere 40 milioni e ricavarne di meno ma non sono così scemo da farlo oh madonna e allora fatemi morire fatemi morire vabbè comunque dicevo spero che il microfono funzioni bene quindi capisco appunto la loro intenzione nel voler cercare di guadagnarci qualcosina la Roma è la partita cercando di non spendere nulla e ci sta comunque quando tu vuoi prendere un giocatore devi puntare almeno all'inizio a spendere il meno possibile poi se loro ti dicono voglio di più magari alzi un po' l'offerta e si cerca di trovare un compromesso nessuno parte con l'idea ok vuoi 30 milioni te ne do 40 e se lo porti a casa soprattutto considerando la situazione attuale in casa Roma quindi la volontà del giocatore c'era ed è sempre stata presente è sempre mancato però l'accordo tra le due squadre perché chiaramente se tu mi offri zero e io ci ho speso per quel giocatore 40 milioni e più è chiaro che sono più propenso a dirti di no oltre a noi chiaramente ci sono state altre squadre in questi giorni interessate al giocatore ma la sua volontà almeno per il momento è quella di vestire categoricamente la maglia del Roma questa possibile apertura al prestito secondo me sarebbe un vantaggio importante perché ci permetterebbe di stare tranquilli di cosa si parla allora? si parla di principio di un prestito appunto con obbligo di riscatto determinato dall'eventuale qualificazione alla prossima Champions League il prestito si tratterebbe di un 3,4 milioni come base da dare al West Ham fissa quindi tu comunque quei soldi glieli dai il giocatore viene qua in prestito e se la Roma dovesse qualificarsi alla prossima Champions League avrebbe l'obbligo di riscattare il giocatore chiaramente sotto questo aspetto bisogna capire appunto di quale cifre si parlerà perché è vero che è un obbligo indipendente da una qualificazione o meno che sarebbe un risultato importante per la Roma visto che non ci arriviamo da più di 5 anni però bisogna capire anche quanto nel senso che se loro ti mettono l'obbligo a 40 milioni io ti dico ok va bene che vai in Champions però sprecheresti tra virgolette buona parte di quei soldi guadagnati solamente per un singolo giocatore poi magari fa un anno della madonna e dimostra anche di meritare quella cifra però bisogna trovare diciamo un giusto compromesso io credo che comunque non si arriverà a cifre così alte perché se lo hanno pagato 42 milioni l'anno scorso e viene da una stagione deludente non possono pretendere di guadagnare di più quindi credo che se si dovesse fare così magari si cercherà di mettere una base di obbligo sui 25, 26, 27 milioni in modo tale che tra base del prestito e riscatto definitivo si arrivi sui 30, 31 che per loro ci può anche stare comunque non sarebbe una minusvalenza così clamorosa considerando appunto che come ho detto viene da una stagione abbastanza deludente e qua ovviamente sorge spontanea la domanda chi preferire tra morata e scamacca? io sono sincero magari sarò esagerato ma finché c'è la possibilità io mi auguro che si possa provare a prendere entrambi so che è difficile probabilmente non arriverà neanche uno perché tanto quando ci siamo messi a dire ne voglio più di uno alla fine non è mai arrivato nessuno né quando abbiamo fatto esempi di questo tipo in calcio mercati passati si dice così non lo so quindi di base è difficile però io sinceramente voglio tenere aperta la speranza che si possa fare così magari prendendo un Renato Sanchez in prestito a centrocampo e quindi lì non spendi niente in attacco magari prendi morata titolo definitivo per 18 milioni per dire faccio così delle ipotesi mie non è che sono notizie che vi sto dando ci tengo a specificarlo e quindi morata lo prendi a titolo definitivo scamacca lo prendi in prestito spendendo quei 4-5 milioni così in totale ti viene una spesa di 22 milioni per due giocatori poi se l'anno prossimo vai in Champions League quindi raggiungi il tuo obiettivo lo riscatti e fai mercato con i soldi dell'eventuale cessione di Ebram poi su Belotti faremo un discorso a parte perché è chiaro io credo che la Roma se possibile di fronte a offerte importanti lo cederebbe senza troppi pensieri considerando soprattutto che è arrivato a parametro zero però credo che non ne siano arrivate e soprattutto non ne arriveranno e quindi è lecito pensare che alla fine resterà in qualche modo a meno che non arrivi in offerta nell'ultimo minuto io però ragiono sempre col pensiero che se tu vuoi portare avanti la stagione con più competizioni devi avere abbondanza io non capisco chi fa discorsi del tipo se prendi lui dopo l'altro non gioca ma che vuol dire soprattutto noi a Roma l'anno scorso l'abbiamo visto abbiamo dovuto giocare con i Primavera raccattare un po' quello che avevamo e metterlo un po' in varie zone del campo per me l'abbondanza non è mai un problema soprattutto se si parla di giocatori di un certo livello tecnico se davanti ti ritrovi con Morata Scamacca, Dybala e Belotti per me sarebbe un ottimo attacco e non sarebbe certo tra i più come si dice tra i più pieni di giocatori del mondo perché è vero che c'è anche Solbaken però io credo che comunque la Roma deve fare un miglioramento lì davanti perché l'anno scorso si è visto sotto gli occhi di tutti sono mancati gli assist degli esterni ma anche gli attaccanti hanno messo del loro perché ci sono state diverse occasioni in cui potevano metterla dentro e hanno sbagliato in maniera clamorosa uno ha fatto 0 gol in campionato l'altro è arrivato a 7-8 in tutte le competizioni capite che sicuramente è il reparto che deve essere rinforzato per quanto riguarda Scamacca io lo reputo un giocatore che qua può veramente fare bene perché parte già da un presupposto comunque di volontà nel senso che è uno che viene qua con la voglia di spaccare tutto ma io credo che anche dal punto di vista tecnico possa essere veramente utile lo reputo un giocatore che ancora deve crescere e migliorare su diversi aspetti però ha tutte le possibilità per essere un attaccante completo uno di quelli che ti segna quando si ritrova davanti alla porta che ti fa anche gioco di squadra con un ottimo tiro dalla distanza e questa è la sua qualità principale già di diversi anni quindi quella diciamo che già ce l'ha non è che la deve maturare nel corso del tempo e considerando tutti questi aspetti sarebbe un crimine secondo me non provare fino all'ultimo a provare a portarselo a casa poi certo mi dite partiamo in assere di partenza con Scamacca, Belotti, uniche punti io vi dico ho un po' paura sebbene secondo me Belotti potrebbe effettivamente riscattarsi in questa stagione però bisogna chiaramente vederlo sul campo Morata magari ti dà più certezze dal punto di vista dell'esperienza ma al tempo stesso già sai che difficilmente ti farà una stagione segnando tanti gol comunque è un attaccante che fa un po' tutto e questo lo limita dal punto di vista realizzativo ci sono i fenomeni che riescono a segnare fare gioco di squadra e fare tutto quanto e Morata è uno di quelli che magari sacrifica il discorso realizzativo per il gioco di squadra e ci può stare per carità perché comunque io lo reputo Morata un giocatore ottimo soprattutto a determinate cifre e in giro sinceramente vedo poche alternative migliori su quel ruolo per quanto riguarda la Roma inteso come giocatori prendibili e quindi ecco io credo che entrambi i giocatori abbiano qualità che l'altro non ha ma entrambi potrebbero essere veramente un vantaggio veramente un vantaggio importante per l'attacco giallo-rosso perché uno ti darebbe esperienza e solidità l'altro ti darebbe un'esplosività e una finalizzazione che potenzialmente può diventare tra le migliori in Italia entrambi sono delle scommesse se vogliamo non è che esiste certezza assoluta né che prendi uno né che prendi l'altro però per quanto riguarda Scamacca io sarei tanto tanto contento di vederlo vestire la maglia giallo-rossa perché non si può considerare solo il discorso legato al tifo di un giocatore però in questo caso in maniera così evidente spero che la Roma faccia di tutto per prenderlo perché il giocatore vuole venire qua perché ha le potenzialità e tutte le carte regola per poter fare bene e se tu riesci ad imbastire la trattativa con il vantaggio del poter riscattare il giocatore in conseguenza a un obiettivo raggiunto quindi sarebbe comunque positivo sarebbe la cosa migliore perché se tu vai in Champions League prendi i soldi della Champions raggiungi il tuo obiettivo e quindi riscattare Scamacca non sarebbe un problema al contrario se invece tu non ci arrivi cosa che chiaramente non ci auguriamo perché dopo 5 anni voglio ricominciare a sentire la canzone della Champions League lo rimandi alla base per forza di cose e puoi magari ragionarci l'estate successiva cedendo Abram e provando a fare un'offerta comunque al West Ham a titolo definitivo in ogni caso questa se dovesse concretizzarsi sarebbe la modalità di acquisto migliore per tutti soprattutto per la stessa Roma detto questo ragazzi allora fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate se volete Scamacca se non lo volete se volete prendere un altro giocatore e soprattutto chi preferireste tra Morata e Scamacca se vi dicessero la Roma può prenderne uno solo sono curioso di sapere la vostra detto questo ci vediamo più tardi per un altro video speciale dedicato a una stagione una stagione non dico altro poi magari vi farò vedere qualcosina un saluto a tutti sempre e comunque Forza Roma e ci vediamo come sempre ad un prossimo video ciao ragazzi